E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Mirko Zain Oggi andremo a scoprire un nuovo aggiornamento proprio rilasciato ieri sera da Apple che cambia tutto Andiamolo a scoprire insieme Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sono sempre Mirko Zain, come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram Mirko-Zain Dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple ma anche sconti offerte e molto molto altro Ma bando alle ciance ed andiamo a parlare di questo ragazzi Perché Apple proprio ieri sera ha rilasciato un nuovo aggiornamento Che più che essere un aggiornamento totale è un nuovo mini aggiornamento Ed è proprio questa la novità, ma ne parleremo fra poco Intanto vi spoilerò che in questo video andremo a parlare di tutte le importanti novità di iOS 16.2 Della data di uscita, della durata batteria sui nostri iPhone con questo nuovo aggiornamento Ed ovviamente di questa novità veramente importante ragazzi Si parla di una separazione, due diverse tipologie di aggiornamenti da iOS 16.2 Ma non vi do ancora spoiler, vi ripeto, iniziamo con le prime novità Prima di tutto, data di uscita È una cosa che mi chiedete continuamente nei commenti su YouTube o su tutti i social Beh, si dice, e ovviamente la stessa Apple ha confermato Che questo nuovo aggiornamento dovrebbe uscire intorno alla metà del mese di dicembre Intorno alla metà cosa vuol dire? Più o meno da giorno 10 a giorno 25 Questa è la fascia di rilascio classica di Apple Più o meno, diciamo, realisticamente tra il 15 e il 20-25 Scopriremo ovviamente la decisione di Apple Però questa è la data Manca praticamente un mese e arriverà questo nuovo aggiornamento Che avrà altre versioni beta Sicuramente arriveremo alla beta 4, alla beta 5 Forse anche alla beta 6 Prima di iniziare ti ricordo di scaricare iAppZain Ovvero la migliore app per scoprire tutte le ultime news sul mondo Apple Ma ti ricordo anche di scaricare iAssistenza L'app che ti permette di risolvere tutti i tuoi problemi con iPhone ed iPad Ed infine ti ricordo di scaricare iSfondi L'app che ti permette di trovare tutti gli ultimi e fantastici sfondi del momento per il tuo iPhone Mi raccomando, sono tutte gratis Scaricale qui sotto in descrizione oppure su App Store E finalmente andiamo a parlare delle novità E parliamo prima di tutto della top novità Ovvero questo nuovo aggiornamento che Apple ha rilasciato proprio ieri Perché Apple qualche giorno fa ha rilasciato la beta 3 di iOS 16.2 Ma proprio ieri sera ha rilasciato un nuovo aggiornamento Che vi mostro proprio in questo momento E questo aggiornamento era praticamente identico Però aveva tra parentesi una lettera A come possiamo vedere chiaramente E la scritta ovviamente che ci lascia intendere che fosse un aggiornamento di sicurezza Ed è proprio così ragazzi Perché Apple per la prima volta nella sua storia Non solo per Mac ma anche su iPhone Finalmente separa gli aggiornamenti che contengono novità Con gli aggiornamenti di correzioni e sicurezza Quindi questo cosa vuol dire? Se notate pochi megabyte era il file Quindi una sessantina di megabyte Una volta fatto il processo di installazione di questo piccolo aggiornamento di sicurezza iPhone verrà solo riavviato Ed è questa la novità ragazzi Perché come ogni volta Apple rilascia ad esempio iOS 16.1 Poi c'è un problema e rilascia iOS 16.1.1 Invece in questo caso non c'è bisogno di aggiornare completamente il nostro dispositivo Perdere 20-30 minuti per scaricare l'aggiornamento Avere una rete wifi disponibile Aggiornare, perdere tempo eccetera eccetera Basterà installare pochi minuti e poi un semplice riavvio ragazzi Un semplice riavvio Che ci permetterà di installare questi aggiornamenti di sicurezza Questa è una delle cose che molti di voi mi segnalate spesso Come lamentela tra virgolette Perché mi dite E io non voglio aggiornare spesso il mio iPhone Dato che la procedura è molto lunga e molto macchinosa Beh la soluzione è questa ragazzi Quando ci sono novità Apple rilascerà un nuovo aggiornamento Come è classico fare Mentre quando ci saranno delle piccole correzioni Che sono relative alla sicurezza O alle prestazioni o qualcosina Rilascerà questi piccoli minuscoli aggiornamenti rapidi Che richiedono solo un riavvio Un riavvio? Era ora? Posso dare il mio parere? Era ora! Apple sveglia! Buongiorno! Ma continuiamo facendo un piccolo riassunto Delle novità più importanti Che vedremo su questo iOS 16.2 Vi ricordo A dicembre Ora Ne abbiamo già parlato nello scorso video Prima di tutto Nuovo widget dell'app salute Che si inserisce all'interno della lock screen Che ci permette di ricordare Quando dobbiamo prendere dei farmaci Semplicemente Ci mostra l'orario Ci mostra il funzionamento Diciamo del widget stesso E ci avvisa principalmente Quando dobbiamo assumere dei farmaci da ricordare E' stato aggiunto anche il nuovo always on display personalizzabile Solo per gli iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max Ripeto, ne abbiamo già parlato di queste due specifiche novità Nello scorso video Che vi invito a vedere qui sul canale E poi è stata anche aggiunta la nuova applicazione Freeform Insieme a tante altre piccole chicche Ma questa nuova applicazione ci permette di creare una sorta di note condivise Con tutti i nostri amici, parenti Che ne so A scuola, con i nostri compagni di classe, di università Oppure a lavoro, in ufficio Creare progetti e compilarli Scrivere note a mano Inserire foto, immagini E tanto altro Ovviamente tramite una singola applicazione Che si sincronizza sia con i nostri iPhone Che attualmente con i nostri iPad E ultime due novità Aggiunto il nuovo widget sonno Che ci permette di monitorare dalla lock screen il nostro sonno E ci dà anche delle informazioni e dei suggerimenti molto utili E poi Apple attiva i live activities Ovvero le attività live Che sono praticamente delle attività che si svolgono all'interno della lock screen Tramite dei widget che sono interattivi Ovvero live in tempo reale Si possono utilizzare per partite di calcio Che ne so Partite di football Voli aerei Eccetera E andiamo a parlare finalmente di durata batteria Ho prodotto in queste settimane un altro screen Dove vi mostrerò fra poco le statistiche che ho tirato fuori Ma vi posso dire che questa beta 1, 2 e anche la beta 3 Sembrano praticamente essere equivalenti Non sembra esserci praticamente nessuna modifica Per quanto riguarda la durata batteria Che secondo me, ripeto Non è ancora ottimale Secondo il mio modesto parere Spero Sempre in un migliore evento Però a mio avviso ancora non è al top Manca forse nel mio iPhone 14 Pro Max Rispetto magari alle prime settimane di utilizzo con iOS 16.0 Magari un po' un 10% Però rispetto al mio 13 Pro Max Gli manca un 20-30% secondo me Quindi Spero Apple Ci siamo? Però andiamo a vedere lo screen Perché in una giornata sola In una sola Casualmente Non so neanche come ho prodotto questo screen ragazzi Veramente incredibile Sono riuscito a fare Come vediamo in questo momento 10 ore e 15 minuti di schermo Che sicuramente è maggiore rispetto alle 8 Quasi 9 ore che ho prodotto negli scorsi video Anche 7 addirittura Quindi di sicuro in questo caso il miglioramento si vede Ma non è un miglioramento tangibile Nel senso che dipende sempre ripeto dalla vostra giornata E da cosa avete fatto in quel momento Ed infatti vi faccio vedere proprio adesso Che applicazioni ho utilizzato maggiormente Ho usato il 42% Whatsapp Ma quindi messaggi Messaggi vocali Di testo Quindi non consumano tantissimo Ed infatti utilizzandolo veramente tantissimo Ha consumato il 42% Poi Instagram con il 14% Chiamate, telefono con l'8% La schermata di blocco il 6% E poi TikTok e altri social 6% Eccetera eccetera Quindi diciamo che il maggiore consumo È stato dettato da Whatsapp Ma questo maggiore consumo comunque Siccome è stato solo testuale E chiaramente anche tramite messaggi vocali Non con videochiamate o altro Ha resistito parecchio E ha permesso alla mia batteria di durare molto di più Però ripeto ragazzi È soggettivo Molto soggettivo Perché in base a quello che facciamo In base alle applicazioni che utilizziamo E con quanta frequenza Se in Wi-Fi Se in 3G 4G 5G Ovviamente la batteria si consuma In modo maggiore o minore E una cosa ci tengo a dirla Per chi è arrivato qui In questo momento Nel video Non esiste Che io faccio 10 ore E voi fate anche 10 ore Oppure Che io faccio 3 ore Tipo pochissime E voi fate 3 ore Ognuno ha la sua durata a batteria Le batterie sono identiche Ma il modo di utilizzare il dispositivo Le cose che ci sono dentro Sono sempre completamente diverse Nessuno potrà mai avere la stessa identica durata a batteria di un altro Sento molto spesso la gente dirmi Mirko ma in media quanto dovrebbe durare Non c'è una media Ognuno ha la sua durata a batteria Perché ognuno sfrutta i dispositivi Come meglio crede Ovviamente ragazzi Fatemi sapere qui sotto nei commenti Cosa ne pensate di questo nuovo iOS 16.2 Ma soprattutto della nuova separazione Degli aggiornamenti di sicurezza Privacy con le novità E ovviamente sulla durata a batteria Scrivetemi un commento qui sotto Vi aspetto Io come al solito ragazzi Vi saluto Vi ringrazio ovviamente Per aver visto questo nuovo video Come al solito Arriviamo a 300 mi piace Per il prossimo episodio Iscrivetevi e commentate Ci vediamo al prossimo appuntamento Sempre qui con Mirko Per AppleZain.net E... Ciao Ciao Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram E non te ne pentirai Grazie a AppleZain.net Puoi usufruire fino al 60% di sconto Sui prodotti Amazon Ed il link lo trovi qui sotto in descrizione Musica 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 Grazie per la visione!